Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure vi do il benvenuto se questo è il primo video che guardate sul mio canale. Oggi facciamo un quiz di grammatica, perciò mettiamo in pratica tutto ciò che abbiamo imparato su alcune coppie di verbi. Il quiz di oggi verte sulle coppie di verbi di questa playlist. Quindi tutti quei verbi che potrebbero creare confusione perché di simile forma e di simile significato. Potete affrontare questo quiz in due modi, potete usarlo come test di verifica, avendo già seguito tutte le lezioni di questa playlist, oppure potete farlo per controllare quali verbi sarebbe opportuno ripassare. Vi metterete alla prova con 10 frasi. Per ogni frase vi darò la soluzione, ma non spiegherò il perché di quella soluzione. Per quello ci sono tutte le lezioni della playlist. Detto ciò, possiamo cominciare! Stefano ha finalmente smesso di fumare. Daniele, ti sei accorto che hanno tagliato l'albero davanti casa? Domattina Martina uscirà di casa presto. Il suo treno è alle 6. Marcello ha cotto il pollo in forno per troppo tempo. È durissimo! Affittirete un appartamento per le vostre prossime vacanze? Non riesco proprio a sentirti, c'è troppo rumore. E' da tanto che non ci vediamo. Quando mi vieni a trovare? Ti raggiungo appena finisco di scrivere l'articolo. Mi piace molto cucinare. Non posso dire bugie, mamma me l'ha vietato. Com'è andata? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. Grazie per aver provato a fare questo quiz. Noi ci vediamo prossimamente. A presto! Ciao!